Grande fratello. Letizia Petris contro Sara Ricci. In poco tempo l'attrice nuova arrivata nella casa si è messa in mostra per il suo caratterino. La discussione con Beatrice. Un'altra come dire. Parecchio, tosta, ha provocato. Sara ha accusato la collega di non aver voluto sostituirla sul set quando ha perso la mamma. Beatrice ha dato un'altra versione della vicenda. Ma in ogni caso l'episodio risale a qualcosa come 25 anni fa. Di fronte a questi attacchi è intervenuto un ex protagonista di Vivere. L'attore Gabriele Lazzaro. Ma l'atteggiamento di Sara Ricci. Tirare in ballo questioni di 25 anni fa per screditare Bea. E ancora. Chiedete a Endemol. Chiedete a Canale 5. Io non devo dire grazie. Sono un professore. Cara Sara. Anche meno. Siamo attori. Non siamo Dio. Se sei al GF vuol dire che ti è convenuto rispetto a qualsiasi altro lavoro in ballo. Quindi sì. Devi dire grazie al GF. E non si è fermato qui. Ma l'arroganza di questa donna. Si permette di parlare della famiglia. Letizia si scaglia contro Sara. Hai litigato pure con la costumista. Dopo l'ultima puntata anche Letizia Petris si è scagliata contro Sara Ricci. Accusandola di essere una classista. Ti guardo sbalordita perché hai atteggiamenti che nessuno qua ha. E ho pensato. Ma davvero chi diventa famoso? Poi è così. Mi riferisco a quando hai litigato con la costumista. Ero sbalordita. Perché io sono talmente grata di essere qua dentro che direi grazie pure se mi vestissero con un sacco di juta. Di fronte a queste accuse Sara ha replicato. Non sono una snob. Ma io ho 30 anni di carriera e un'immagine. Questo è il mio lavoro e non sono abituata a farmi vestire da altri. Generalmente tutti gli abiti li scelgo insieme alla costumista.